Il decreto anti-Rave mostra due criticità, sulle quali la stessa maggioranza chiede di intervenire. L'eccessiva genericità della norma per definire l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, e la possibilità di intercettare i responsabili del nuovo reato. Le modifiche spetteranno al Parlamento, chiamato a convertire il decreto in legge entro la fine dell'anno. Altra spina per il Governo è la posizione di alcune regioni che dicono no al reintegro in corsia di medici e infermieri Novax. Campania, Lazio, Emilia e Puglia li faranno rientrare, ma non direttamente a contatto con i pazienti. La sospensione, si fa notare, sarebbe comunque terminata tra circa un mese a fine dicembre e per ora salta lo stop alle multe per i non vaccinati. Secondo la Fondazione Sanitaria Gimbe, infine, sarebbe diminuito di un quarto il numero delle persone sottoposte al vaccino nell'ultima settimana, a cavallo del primo novembre.